Beh mentre carica il gioco hai bisogno di una maglietta non sai come uscire queste magliette fanno al caso Tuo è poi comprare qui sotto in descrizione se ti piacciono le compri se non ti piacciono ti compri una bella Banana perché le banane piacciono a tutti e ciao a tutti ragazzi quest'oggi come potete vedere ci troviamo nuovamente qui su Mirror Sage Catalyst Nello scorso episodio ci eravamo lasciati più o meno qui L'abbiamo parlato con la nostra bellissima Valeria Marini Sì, sì, attenzione, attenzione Sì, ciao caro, ciao, ciao, sei bellissimo Si corre e si va velocemente dove dobbiamo andare Allora, dovremmo raggiungere quell'edificio là Ma io come ne prendo quel coso? Fate, dovrei attraversare Turing Avenue per raggiungere la Holcom Usa il mag Cos'è il mag? Penso debba andare su questo ponte, non lo so Diciamo, usa il mag Come spacchio lo usa il mag Salve, scusimi Qua dice che devo usare il mag Un spacchio si usa Ah, posso andare di là, ok Dai, dai, dai Salisci, fai Veloce Maronmi, quanto spacchio salienta Sono qui Ma fa un gol Perfetto, dobbiamo salire qui in cima E poi Poi lo sapete che io sono quasi morto, vero? Ok, non so come andarci Ragazzi, ho attivato un attimino la prospettiva del runner Perché non ho capito Eh, vabbè Io come lo capisco Sì, vabbè Ma io come lo capisco che devo andare qua, però Come lo capisco? Madonne mia Ma il tutto è tutto A posto, leviamo Con prospettiva No Ma vedi te Vedi, allora Come lo capisco Che Io ho in casa, ragazzi Continuiamo ad andare Di qua Perfetto Oh, salve Entriamo ragazzi Ok Sono dentro la holcom Bene Il canale dei dati è molto in alto Madonna mia Che bordello Fai Fai silenzio Ah, ma c'è un vetro qua E ditemelo Io non l'avevo capito che c'era un vetro Saliamo sopra ste cose nere Perfettissimo Allora, plastica Che hai combinato ultimamente? Si chiama Valeria E me lo chiedi? Così, per fare conversazione Preferirei evitare Sì, allora ragazzi Scusa Uh, salve Vicino c'è un edificio alto della WFYU Uh, uh Vuoi servirtene per salire più su e tornare nella holcom Va bene Ok Ragazzi Dobbiamo andare in alto Quindi Dai, ragazzi Così vi voglio Cioè, così vi Così mi voglio Perfettissimo Sono alla WFYU Oh, sono alla WFYU Eh, c'è un ascensore con accesso esterno Sembra un buon modo per salire Perfettissimo Allora Cos'è scompe... Che gioca? Che cos'è sta roba? Ah, me la gara Ma che cazzo me ne frego Ma scusimi Scusimi Eh, Shannon Non, non mi sbaglio Andiamo sopra ragazzi Come salgo? Almeno, ah, ha detto c'era un ascensore all'esterno Ah, è questo l'ascensore Ah, eh, dimmelo prima, no? Salve Oh, perché gli ascensori qua non sono così veloci? È un magnifico lettore In messa disponibilità di spazio Sì Non mi immaginavo tanta ricercatezza dall'Omnistat Ah no? Hai visto che bravo? La aveva doveva essere una spia dell'Omnistat O giù di lì Naturalmente Dau, dau, dau Avevo capito che non veniva da qui Ma dall'Omnistat Deve serci in ballo qualcosa di grosso Per mandare agenti fino a Glass Così si spiegherebbe l'inastrimento delle misure di sicurezza della Krugersack Il loro traffico in rete è decoplicato Già Non riesco a immaginare Gabriel Kruger felice di trovare agenti dell'Omnistat Non chiedetemi perché abbiamo visto quella cosa Ma l'abbiamo vista Ok Ma perché li vedo? Ho levato la... Come si chiama? Allora devo andare di qua Bravissima ragazza Vai ragazza! Ok Che brava pupa che sei Oh, una registrazione Perfetto No, premi giù che non la voglio sentire Perfettissimo Uhuhu Quanto sei brava quando ti attacchi Corri di là Ok Oh, ma qua dice che c'è una valigia? Sarà là sopra Eh Mi volevi fregare? Te sono mio Oramai Oramai so dove guardare Allora, dove devo andare? Sì, tutto tranquillo Perché non mi hai visto Per quello tutto tranquillo Ok Ragazzi Dobbiamo Scendere Quindi Ahah 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 Buongiorno Ciao carissimo Tesoro bello Ok, andiamo di qua Ok E interagiamo Ho trovato il canale dei dati Connessione Sì Ci siamo e Tannazione Che... Qual è il problema? Cosa? Devo reindirizzare anche un selettore di priorità Il più vicino e alcuni piani sotto Ah, va bene Fate I coordinatori della Krug Sè che parlano di confusione Nell'edificio della Holcomb Mi sa che opera tua Ma non ho fatto niente Serto che opera sua Ma non ho fatto niente Sento solo di non perdere tempo Come faccio ad andare giù? Io le sto chiedendo di muoversi plastic Beh, sono certa che lo fa già Non è forse una runner? Sì, va bene Ok Io vorrei scendere Come scendo? Scusmi Come scendo? Io devo scendere? Mi servono delle scade Ah, di qua? Ok, salve Devo scendere Ah, di qua? Ok Ah, di qua? Salve Mi spiace Andiamo di là Baw Perfettissimo Allora, devo scendere Quindi Va benissimo di qua Andiamo di qua Ok Andiamo Ok Là ci sta uno Mi sono rotto Quattro gambe No? Ma don't me Bam Tesoro mio Oh, c'è il tesoro Ma don't me Te prendo a calci In bocca Ti prendo Antonello Venditti Salve Dove devo andare? Devo continuare a scendere? Sì, penso di sì Ah, mantieni il spazio Ok Perfettissimo Devo scendere Ma se mi butto di qua Cioè io qua ci muoio Quindi Ah, devo andare di qua Ok E dimmelo prima No Io queste cose se non le vedo Mica le so Fate 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 Ma perché è stupida questa ragazza? Ma perché è celibrolesa? Fate Non mi ruvalmi Sì, un runner tua sorella Un runner Con nutello E stavolta col culo che mi prendi? Ahah Eh, una vuota sì Ruvo a te Perfettissimo Vai di là Brava ragazza Interagisci Perfetto Vai indietro Ed entra dentro Fate Oh Eh, sta vuota Una vuota sì Ruvo a te Cos'è? Registrazione non mi interessa Vai Fate Andiamo di qua Ok Allora Dobbiamo scendere Più o meno Sì Aggrappati al Tombo Sì Vabbè domani Salve Dove devo andare? Ah, ecco qua Ok Ragazzi Andiamo Ok Perfettissimo Salve Allora ragazzi Non mi hanno ancora visto Piano ragazzi Piano, 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 piano M'hanno visto M'hanno visto M'hanno visto Cornuto Ecco il cavallo che mi prendi Ahah Wuhuu Eh, tesoro mio Eh, tesoro mio Ahah Sono qui Non è vero Cucu Eh Ahah Che vi date i bacini Vi date Tesori loro che si vogliono bene Vai Interagiamo Ok Fatto Eh, sono Deco Eh, direi Non so Ma hanno sbarrato la stanza Ci sto lavorando Perfetto Yeah Oh 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 Eh, ok Devo Oh, benissimo Ragazzi Siamo nella merda Vai Sono qua Eh Eh Vai Affrontami Qua sono Qui sono Qui sono Qui sono Che fa Qui sono Wuhuu Eh, qua Non mi vedi Qui sono Eh, tesoro mio Non mi vedi Ahia, penso di merda Schifoso Eh, qui sono Eh, eh Che calcio in faccia Qui sono Non mi vedi Pau Eh, eh Liscio Eh, tesoro mio Pau Ahaha Vai che mi piace giocare con voi Pau Ahaha Ma che belli siete Ehi Tesoro mio Eh, guaglioni Che c'è Ti fa male la pancia Ti fa male Qual è il problema Ma qual è il problema Ah, sei guardando là Eh, guarda là Aiuto Aiuto Eh, tesoro mio Eh, eh Sono qui, eh Wuhuu Ahahah 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 Che bello Che sta gioco Ahahah Eh, domani Tesoro mio Domani Sì, sì Già qua sono Eh, Francia e Fabrizio Dai Wow Pensavo di poter controllare Il nodo rete Attraverso la Ma il firewall Mi bloccava Eh Va bene Arrivo Eh Ahahah 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 Dio Quanto è bello Questo gioco Quanto è bello Questo gioco Sono fuori Sei bellissimo Sono fuori Il nodo rete non è troppo lontano da te Fatto Ragazzi Mappa giornata Sono entrato dentro una parete Ho fatto Comunque ragazzi Bellissimo Siamo arti Però Siamo usciti in modo troppo figo Ragazzi Quando un gioco Ti fa divertire Quello è un bellissimo gioco C'è C'è Ok Ok Hai visto Hai visto Ho e ora Grazie a me Ci sei riuscito Ok Ok Mentre loro parlano Noi ci incamminiamo Ragazzi Capriola Mi sono rotto Quattro gambe e mezzo Va benissimo Un altro chip Vai un altro veloce Un chip Bravissima ragazza Così ti voglio Pupalino arancione Salve Pupalino arancione Salve Come siamo messi Eh come siamo messi Con i miei calci in faccia Guarda qua Guarda là Eh tesoro mio Non li vedi i calci Ma non li vedi i calci Oh oh Sei calmino Vai on Uè 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 Calizione Fesu Sè Tappo Guarda qua Sto broccolo Che mi deve dare fastidio Ah come Accetta Ops Credo di aver fatto Una cosa Che non dovevo fare Ops Salve Fate Sì ora mi fermo Un attimo Che mia mamma non vuole Ora mi fermo Ragazzi scappiamo Come non siamo mai scappati Prima d'ora Scappa Annaggia la sozza No Ho trovato un punto Maledizione Vai Ho un documento Madonna mi Madonna mi Va bene Muerto Assassini Ragazzi Dobbiamo Riscappare Andiamo 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 Sì 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 Veloce Scappa 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 Merda M'hanno visto Merda M'hanno visto Merda C'è la sozza M'hanno visto Fuga 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 Madonna mi dove cazzo Lo sto andando Sì Vabbè domani mattina Morto di nuovo Vai che siamo scappati ragazzi Rimani nascosto Sì sì Mi infilo qua dentro Mi infilo Col culo che mi trovate a me Ok Vai Sì Nucleo di sicurezza Completato In ogni caso ragazzi Allora dobbiamo andare A fare Questa qua Del nodo rete Allora Andiamo là E nel prossimo Episodio Ci infiltreremo E completeremo Questa missione Ragazzi Non ve lo sto neanche a dire Quanto io sto amando Questo gioco Veramente È bellissimo Ho trovato un cosino arancione Salve Mi sta divertendo Veramente tantissimo Ma Veramente tanto E comunque Sto notando con piacere Che anche voi State apprezzando Diciamo Questo gioco E questo mi fa davvero Tanto piacere Allora Detto ciò Quanto strada manca Siorini Scusami Oh ma qui c'è una Ti ho preso tesoro Che strano Recevo segnali Di un'intrusione Nella rete Ma non capisco Chi sia Ah Ok È in gamba Si concentra Su ancora E sulla zona Attorno al centro Commerciale Bubble Ora sto disattivando I sistemi Automatici Di emergenza Va benissimo Svegli C'è Scusa Ero distratto Forse lo scopriremo Più avanti Ok Dunque ragazzi Mi sa che stiamo Arrivando Al nodo rete Ogni tanto troviamo Sti tizi Ma c'è qualcosa Qua dentro Salve Disturbo Eh si che c'è qualcosa C'è una valigia Disponibile Un punto di recupero Vicino Ah ah Presa Ah ah Mamma mia Sono un cavo Oramai le trovo Tutte le trovo Ok ragazzi La missione È qua Quindi Ok Ragazzi Nel prossimo episodio Affronteremo Questa missione Dobbiamo trovare Un nodo rete E detto ciao ragazzi Se il video ci vi è piaciuto Solo un bel pollicione In subito sotto al video Commentate Condividete Ad un prossimo video Vi voglio bene E ciao ciao